1, 2, 3, 4 Sulla guardia, bravo, 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 così, bravo, anche dall'altra parte il calcio, con la sinistra, tieni le mani su, con la sinistra Emanuele, con la sinistra Dai 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 dai, il calcio sinistro Emanuele, calcio sinistro, calcio sinistro dai Emanuele gira gira Emanuele gira e fa il calcio gira e fa il calcio dai 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 bravo anche al viso Emanuele anche al viso dai dai Emanuele non ti far prendere bravo bravo dai 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 non ti far prendere portalo giù vai Emanuele va bene vai con le combinazioni e calcio alto forza forza sulle mani calcio alto calcio alto calcio alto calcio alto bravo dall'altra parte dall'altra parte dai Emanuele dai 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 30 secondi mancano forza dai 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 bravo bravo prendi e vai giù bravo Emanuele il calcio alla testa calcio alla testa calcio alla testa bravo dall'altra parte dall'altra parte alza le mani bravo, bravo, sì forza 20 secondi Emanuele, continua così vai avanti tu, vai avanti il calcio alla testa dall'altra parte il calcio alla testa non ti far buttare, bravo dai 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 forza 5 secondi calcio alto, calcio alto dai bravo Emanuele bravo, bravo Emanuele, mettiti in yoi in yoi, in yoi bravo bravo rimani così, non ti muovere rimani così, non ti muovere bravo Alex, Andrea dite a tutti gli altri di mettersi le mascherine del doggio nostro bravo Emanuele bravo Emanuele